E siamo allo sport, ieri sera la vittoria dell'ITAS Volley nella finale di Supercoppa contro Monza e questa sera abbiamo il piacere di ospitare, oltre al trofeo vinto proprio ieri sera, il giocatore dell'ITAS e della Nazionale, Alessandro Micheletto. Allora, benvenuto Alessandro, pronti via, è già una Coppa in bacheca. Sì, è molto bello iniziare la stagione così, perché abbiamo fatto penso un weekend molto importante, è una squadra nuova, però che abbiamo dimostrato subito un livello molto alto di gioco contro due squadre molto forti, tra cui Perugia che si è rinforzata molto quest'anno e quindi spero solo sia il primo di tanti con questa maglia. Per te è stato un mese incredibile, prima la vittoria agli europei con la Nazionale, poi il Mondiale Under 21 e ora subito il primo trofeo per Clepto, lo aspettavi? No, non me l'aspettavo minimamente, è un'estate molto importante per me, di cui sono molto orgoglioso e che ho imparato molto. Sono arrivati dei titoli molto importanti per me, per la mia giovane età e quindi queste spero mi aiutino nel mio proseguo della carriera e con la maglia di Trento per migliorare sempre di più. A questo proposito il rinnovo del tuo contratto è stato l'ultimo atto da presidente per Diego Mosna. Ti senti un po' il tramite, adesso anche col primo trofeo, del nuovo corso? È un onore per me rappresentare questa società, con l'ex presidente Diego Mosna ho un rapporto molto bello e è stato un onore per me ricevere questo ultimo suo contratto. Spero solo di continuare a fare come hanno fatto molti giocatori che sono passati qui a Trento perché ci sono dei campioni, tra cui uno in squadra con me, che è Mattei Kazinski, quindi spero solo di imparare molto da loro e fare il meglio per questa società. Ecco, ti chiedo, siamo agli sgoccioli, la stagione è appena partita, cosa possono aspettarsi i tifosi? Ma i tifosi devono credere in noi perché siamo una squadra molto forte, ci piace giocare, ci piace divertire, far divertire le persone, i nostri tifosi, e quindi vogliamo continuare su questa strada. Spero solo sia l'assaggio di questa stagione, ci saranno moltissime altre competizioni, noi vogliamo giocarle da protagonista e poi con la maglia di Trento bisogna sempre cercare di arrivare in fondo. Ecco, magari si comincerà già da domenica alle 18 l'incontro contro i campioni d'Italia di Civitanova. Ringraziamo Alessandro Michieletto per averci portato la Supercoppa e lo aspettiamo anche per nuove vittorie da celebrare nel prossimo futuro. Speriamo, grazie mille.